Prima di iniziare a fare l'agente immobiliare ero un dipendente, ero stato assunto presso un ministero qui su Roma. Prima studiamo, ero studente. Mi sono occupato sempre di attività commerciali sia come venditore e successivamente come area manager. Mi occupavo di fare le consegne a domicilio. Ho iniziato a lavorare per una società di mediazione creditizia. Prima di lavorare in Toscano ero uno studente. Lavoravo nell'impresa edile di mio padre, ho avuto anche una brevissima esperienza come cameriere.